Salve a tutti amici di CDK, qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 30 dicembre dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che si richiede a proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch dal lunedì a venerdì dalle 10.00-13.30 per tanto Overwatch, invece da sera dalle 20.00-23 per tanti giochi come Genshin Impact, 7.99, The Banning of Isaac, Taekwondo Tazujin e l'attesissimo Cyberpunk. Quindi mi raccomando vi aspetto sul mio canale Twitch, mi invito a seguirvi sul mio social principale di Instagram per gli aggiornamenti e nel mentre possiamo iniziare la presentazione dei giochi di oggi. Il primissimo gioco gratis che presentiamo sull'Epic Store e scadrà alle ore 17, quindi mi raccomando riscattate del prima possibile, è Solitarica che era un gioco che io non conoscevo ma vedo che è un gioco deck builder roguelike. Se va davvero molto molto carino e interessante sicuramente lo proverò anche perché io adoro giochi di carte, nel caso provatelo anche voi. E invece ovviamente stanno dando ancora gratis, diciamo free to play, Overwatch fino al 4 gennaio, quindi assolutamente, se eravate interessati a comprarlo dovete provarlo assolutamente ora e decidere. Così nel caso potete giocare insieme a noi, anche perché noi stamattina porteremo Overwatch, quindi mi raccomando. E invece per chi ha l'abbonamento all'Xbox stanno dando ancora gratis Bleed 2, che è un gioco d'azione indie in arcade Bullet L, quindi straconsigliato anche di giocare questo bellissimo gioco, che è magari un po' diverso dal solito. Quindi straconsigliato se siete magari fortunati che avrete l'abbonamento all'Xbox, quindi mi raccomando. Invece altro gioco gratis che stavo dando, che io vi straconsiglio è di provare di giocare se vi è piaciuto un sacco lo stile di gameplay di Hotline Miami, è Blackout Zeta Slottenhouse Edition. Quindi davvero straconsigliato di provare questo giochino, nello sto già giocando ed è molto molto bellino, anche perché ho adorato Hotline Miami, quindi sicuramente lo adorerete anche voi. Invece il 20 gennaio uscirà finalmente il nuovo capitolo di Hitman, Hitman 3, quindi assolutamente non potete perdervi l'attesissimo nuovo capitolo. Quindi se lo dovete prendere, prendetelo ovviamente dal nostro sito, perché già da adesso è super scontato, quindi assolutamente il 20 gennaio non potete perdervi il gioco. Invece il 26 gennaio uscirà Atelier Risa 2, Lost Legends and Secret Fairy, che è un gioco che sto iniziando a giocare, scusate, a conoscere, proprio in questi giorni. Ed è un gioco JRPG fantasy in stile FPS, in stile anime, sembra davvero molto carino, quindi se siete interessati mi raccomando prendetelo da noi. Invece un gioco che volevo provare insieme a voi su Twitch è The Medium, che uscirà il 28 gennaio, ed è un gioco d'avventura, gore e horror psicologico. A me gli horror fanno alquanto paura, però non so perché questo mi interessa alquanto come sia il gioco, quindi nel caso lo proveremo tutti quanti insieme su Twitch, mi raccomando. Invece il 3 febbraio uscirà Outriders, che è un gioco che io stavo vedendo già da un po' di tempo, ed ero anche interessata, perché è un gioco sempre RPG, però d'azione ed avventure, soprattutto in co-op, quindi si può giocare anche in compagnia degli amici. Quindi nel caso siete interessati, ovviamente compratelo tutti i quadri dal nostro sito, perché già da adesso è scontato. Invece per i giochi super scontati abbiamo Kona, che è un gioco che io non conosco letteralmente, è la prima volta che lo vedo ed è già super scontato a circa 1€, quindi davvero potete assolutamente provare questo bellissimo gioco d'avventura. Vedo anche di sopravvivenza, sembra davvero molto bellino, secondo me per 1€ assolutamente merita, quindi nel caso provatelo, ditemi se vi è piaciuto. Invece qua un giocone che tutti conosciamo, ed è Tropico 6, che anche qua è super scontato a circa 6,50€, anche qui per un prezzo davvero così irrisorio non potete perdervi questo bellissimo gioco City Builder di simulazione e di strategia, quindi davvero straconsigliato anche qua di prenderlo sul nostro sito e di giocarlo. Invece altro gioco che mi era familiare, forse l'avevo già visto in giro, è Project Wingman, che costa poco meno di 10€, anche qui davvero super scontato. Quindi è un gioco d'azione, di simulazione e comunque i combattimenti aerei, e sembra anche qua molto molto bellino e interessante, quindi nel caso se vi piace il genere mi raccomando prendetelo da noi. E ultimo ma non meno importante, sempre a circa 10€, anche qui super scontato, abbiamo Assetto Corsa Competizione, il nostro famosissimo gioco di simulazione di corse di macchina, quindi assolutamente anche qua straconsigliato di prenderlo se vi piace il genere e prenderlo da noi, perché da noi è scontatissimo, quindi non potete perderlo. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo i video di presentazione del 30 dicembre, io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo nella prossima presentazione dei giochi. A presto, ciao ciao! Ciao!